Ciao, come visto nel filmato precedente, l'accetta della vioginia si era rotta sulla lama, adesso cerco di sistemarlo un po', l'ho già un po' lavorata, adesso vediamo cosa riesco a fare. Non so se si vede, il filo adesso è tornato uniforme. Il problema sarà più che altro affilarla perché io adesso l'ho appiattita ovviamente, quindi proviamo ancora a lavorare un po'. Grazie. 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 Grazie mille. 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 Grazie mille su questo filo avevo교 Tai chiunione. Comunque, se non altro, è tornata più o meno com'era. La lama adesso è anche più robusta perché qui è più spesso il metallo. La proverò. La proverò.